In una valle chiusa da colline boschive, sorridente nei colori della primavera, sorgevano una accanto all'altra due grandi case disadorne, pietra e calce. Parevano fatte dalla stessa mano e anche i giardini chiusi da siepi, posti dinanzi a ciascuna di esse, erano della stessa dimensione e forma. Chi vi abitava non aveva però lo stesso destino. In uno dei giardini, mentre il cane dormiva alla catena e il contadino si dava da fare intorno al frutteto, in un cantuccio appartati, alcuni cucini parlavano di loro grandi esperienze. Ce ne erano altri di più anziani nel giardino, ma i piccini, in cui il corpo conservava tutta la forma dell'uovo da cui erano usciti, amavano di esaminare fra di loro la vita in cui erano piombati, perché non vi erano ancora tanto abituati da non vederla. Avevano già sofferto e goduto, perché la vita di pochi giorni è più lunga di quanto possa sembrare a chi la subì per anni, e sapevano molto, visto che una parte della grande esperienza l'avevano portata con sé dall'uovo. Infatti, appena arrivati alla luce, avevano saputo che le cose bisognava esaminarle bene, prima con un occhio e poi con l'altro, per vedere se si dovevano mangiare o guardarsene. E parlarono del mondo e della sua vastità, con quegli alberi e quelle siepi che lo chiudevano, e quella casa tanto vasta ed alta, tutte cose che si vedevano già, ma si vedevano meglio parlandone. Però uno di loro, dalla lanugine gialla, Satollo, perciò disoccupato, non si accontentò di parlare delle cose che si vedevano, ma trasse dal tepore del sole un ricordo, e subito disse, certamente noi stiamo bene perché c'è il sole, ma ho saputo che a questo mondo ci si può stare anche meglio, ciò che molto mi dispiace, e ve ne lo dico perché dispiace anche a voi. La figliuola del contadino disse che noi siamo tapini, perché ci manca la madre. Lo disse, con un accento di sì forte compassione, ch'io dovetti piangere. Un altro, più bianco e di qualche ora più giovane del primo, per cui ricordava ancora con gratitudine l'atmosfera dolce da cui era nato, protestò, noi una madre l'abbiamo avuta, è quell'armadietto sempre caldo, anche quando fa il freddo più intenso, da cui escono i pulcini belli e fatti. Il giallo, che da tempo portava incise nell'animo le parole della contadina, e aveva perciò avuto il tempo di gonfiarle, sognando di quella madre fino a figurarsela grande come tutto il giardino e buona come il becchime, esclamò, con un disprezzo destinato tanto al suo interlocutore quanto alla madre di cui costui parlava. Se si trattasse di una madre morta, tutti l'avrebbero. Ma la madre è viva e corre molto più veloce di noi, forse ha le ruote come il carro del contadino. Perciò ti può venire appresso senza che tu abbia bisogno di chiamarla, per scaldarti, quando sei in procinto di essere abbattuto dal freddo di questo mondo. Come deve essere bello di avere accanto di notte una madre simile. Interlo qui un tardo pulcino, fratello degli altri perché è uscito dalla stessa macchina, che però l'aveva affoggiato un po' altrimenti, il becco più largo e le gambucce più brevi. Lo dicevano il pulcino maleducato, perché quando mangiava si sentiva abbattere il suo beccuccio, mentre in realtà era un anitroccolo che al suo paese sarebbe passato per compitissimo. Anche in sua presenza la contadina aveva parlato della madre. Ciò era avvenuto a quella volta che era morto un pulcino crollato esausto dal freddo nell'erba, circondato dagli altri pulcini che non l'avevano soccorso perché essi non sentono il freddo che tocca gli altri. E l'anitroccolo, con l'aria ingenua che aveva la sua faccina invasa dalla base larga del beccuccio, asseria addirittura che quando c'era la madre i pulcini non potevano morire. Il desiderio della madre presto infettò tutto il pollaio e si fece più vivo, più inquietante nella mente dei pulcini più anziani. Tante volte le malattie infantili attaccano gli adulti e si fanno per loro più pericolose e le idee anche talvolta. L'immagine della madre quale sarà formata in quelle testine scaldate dalla primavera si sviluppò smisuratamente e tutto il bene si chiamò madre, il bel tempo e l'abbondanza e quando soffrivano i pulcini, anitroccoli e tacchinucci divenivano veri fratelli perché sospiravano la stessa madre. Uno dei pianziani un giorno giurò che gli la madre l'avrebbe trovata non volendo più restarne privo. Era il solo che nel pollaio fosse battezzato e si chiamava curra perché quando la contadina col becchime nel grembiale chiamava curra curra egli era il primo ad accorrere. Era già vigoroso, un galletto nel cui animo generoso albeggiava la combattività, sottile e lungo come la lama, esigeva la madre prima di tutto perché lo ammirasse, la madre di cui si diceva che sapesse procurare ogni dolcezza e persò anche la soddisfazione dell'ambizione e della vanità. Un giorno risoluto curra con un balzo sgusciò fuori dalla siepe che fitta contornava al giardino natio. All'aperto subito sostò intontito. Doveva trovare la madre nell'immensità di quella valle su cui un cielo azzurro sovrastava ancora più esteso. A lui tanto piccolo non era possibile difrugare in quell'immensità, perciò non si allontanò di troppo dal giardino natio, il mondo che conosceva, e pensieroso ne fece il giro. Così capitò dinanzi alla siepe dell'altro giardino. Se la madre fosse qui dentro, pensò, la troverai subito. Sottrattosi all'imbarazzo dell'infinito spazio, non ebbe altre esitazioni. Con un balzo attraversò anche quella siepe e si trovò in un giardino molto simile a quello d'onde veniva. Anche qui verrà uno sciame di pulcini giovanissimi che si dibattevano nell'arba folta, ma qui verrà anche un animale che nell'altro giardino mancava. Un pulcino enorme, forse dieci volte più grosso di curra, troneggiava in mezzo agli animalucci coperti solo di peluria, i quali, lo si vedeva subito, consideravano il grosso, poderoso animale quale loro capo e protettore. Ed esso badava a tutti, mandava un ammonimento a chi di troppo s'allontanava, con dei suoni molto simili a quelli che la contadina, nell'altro giardino, usava con i propri pulcini. Però faceva anche dell'altro. Ad ogni tratto si piegava sui più deboli, coprendoli con tutto il suo corpo, certo per comunicar loro il proprio calore. «Questa è la madre», pensò curra con gioia. «L'ho trovata e ora non la lascio più. Come mamerà! Io sono più forte e più bello di tutti costoro. E poi mi sarà facile di essere obbediente, perché già l'amo. Com'è bella e maestosa! Io già l'amo, e a lei voglio sottomettermi. L'aiuterò anche a proteggere tutti i cotesti insensati». Senza guardarlo la madre chiamò. Curra s'avvicinò, credendo di essere chiamato proprio lui. La vide occupata a smuovere la terra con dei colpi rapidi degli artigli poderosi, e sostò curioso di quell'opera cui egli assisteva per la prima volta. Quando essa si fermò, un piccolo vermicello si torceva dinanzi a lei sul terreno denudato dall'erba. Ora essa chiocciava, mentre i piccini a lei d'intorno non comprendevano e la guardavano estatici. «Ciocchi», pensò Curra, «non intendono neppure che essa vuole che mangino quel vermicello». E, sempre spinto dal suo entusiasmo d'obbedienza, rapido, si precipitò sulla preda e l'ingoiò. E allora, povero Curra, la madre si lanciò su lui furibonda. Non subito egli comprese, perché ebbe anche il dubbio che essa, che l'aveva appena trovato, volesse accarezzarlo con grande furia. Egli avrebbe accettato riconoscente tutte le carezze di cui egli non sapeva nulla e che perciò ammetteva potessero far male. Ma i colpi del duro becco che piovero su lui, certo non erano baci e gli tolsero ogni dubbio. Volle fuggire, ma il grosso uccello lo urtò e, ribaltandolo, gli salto addosso, immergendogli di artigli nel ventre. Con uno sforzo in mane, Curra si rizzò e corsa alla siepe. Nella sua pazza corsa ribaltò dei pulcini che stettero lì con le gambucce all'aria, pigolando disperatamente. Perciò egli poté salvarsi, perché la sua nemica sostò per un istante presso i caduti. Arrivato alla siepe, Curra con un balzo, ad onda di tanti rami a sterpi, portò il suo piccolo ed agile corpo all'aperto. La madre, invece, fu arrestata da un intreccio fitto di fronde. E là essa rimase maestosa, guardando come da una finestra l'intruso, che esausto s'era fermato anche lui. Lo guardava coi terribili occhi rotondi, rossi d'ira. — Chi sei tu, che ti appropriasti il cibo, ch'io con tanta fatica avevo scavato dal suolo? — Io sono Curra, disse umilmente il pulcino. Ma tu chi sei e perché mi facesti tanto male? Alle due domande essa non diede che una sola risposta. Io sono la madre. E sdegnosamente gli volse il dorso. Qualche tempo appresso, Curra, ormai un magnifico gallo di razza, si trovava in tutt'altro pollaio. E un giorno sentì parlare da tutti i suoi nuovi compagni, con affetto e rimpianto della madre loro. Ammirando il proprio atroce destino, egli disse con tristezza. La madre mia, invece, fu una bestiaccia orrenda. E sarebbe stato meglio per me ch'io non l'avessi mai conosciuta.